Benvenuti in questo nuovo episodio di Analisi Replay Oggi analizzeremo una partita ranked 1v1 di un Core 1900, quindi Platino Andiamo a vedere una partita giocata su Miami Dome, che è uno stage abbastanza particolare Un po' diverso dal solito, uno stage che tra l'altro viene usato veramente poco in torneo Comunque viene scelto veramente poco Quindi partiamo e vediamo un po' che cosa combinano Dall'altra parte abbiamo Cassidy Ok Core ha già pigliato l'arma e si è preso veramente un sacco di danni Vi ricordo analizzeremo le parti clou Quindi lasciamo spazio a Core, che tra l'altro sta prendendo uno stage contro l'assurdo Ok, sono pari C'è Cassidy che continua disperatamente a fare D-Lite Core ha perso il controllo dello stage, non so perché si è buttato fuori Dopo magari lo riguardiamo Ok Tenta il GC Tennessee che muore Ok ok, torniamo un attimo indietro già Allora qua Prima di tutto Ecco Qui Esattamente qui Lui viene hittato dal D-Lite Cassidy faila il Ser Probabilmente Core ha panicato e ha usato lo spot dodge E poi ha fatto Ser e si è buttato fuori dallo stage Non ho idea del motivo E poi è ritornato indietro Panicato ancora, ha provato a lanciare l'arma verso Cassidy Ma ha missato Poi l'ha ripreso ovviamente E Cassidy ha lanciato l'arma per cercare di interromperla a salire Lui è salito lo stesso Ok, questo è stato Un po' una scelta sbagliata da parte di entrambi Perché Cassidy poteva gestire meglio l'errore di Core Core non sarebbe dovuto scendere in primis off stage Senza motivo praticamente E quindi alla fine non è successo niente particolare Però hanno sbagliato entrambi Ok Vabbè qua salterò un attimo questo pezzettino Ok Core riesce a stare la D-Sig Off stage Già trovo l'arma perché sa che c'è quella sotto E fin qui va bene Cassidy cerca di risalire Qui Core scende In questo momento avrebbe potuto fare tantissime cose Avrebbe potuto fare D-R per provare a hittarlo Già E il fatto di scendere È un pochino un rischio In realtà sarebbe dovuto restare su Capisco che i Gauntlet non siano Questa grande forza di Edge Guarding E quindi voleva provare l'off stage con i Gauntlet Che hanno un sacco di potenziale in effetti Quindi Gliela diamo buona questa scelta Comunque Lui scende giù Può fare D-R Può fare Grand Pound Può feiccare Fare Ser Può fare N-R Qualcunque cosa Decide di provare a scendere giù E invece di fare N-R Fare direttamente G-C-N-Sig Ovviamente Cassidy Aveva già capito che Core sta per fare G-C-N-Sig Da parte opposta Che non sarebbe stata hittata E quindi Va giù sicura Gimpare Pia il primo D-R Core tenta di Di contestarla Con una recovery Abbastanza giusto Da parte di Core In questo caso In realtà Avrebbe potuto anche aspettare Avendo i Gauntlet Che hanno un sacco di potential All stage Avrebbe potuto fare Un sacco di altre cose Invece ha scelto il recovery Probabilmente perché È abituato a giocare con altre armi In cui il recovery Magari ha più priority E quindi non è abituato A usare Gauntlet Infatti viene dittato un'altra volta E poi Muore inevitabilmente Adesso rivediamo Cassidy Che Fa weapon starving Ok Ok Un attimo indietro Corti Razzair Che non aveva più l'arma E Spara una N-Sig Vabbè Avrei potuto fare anche qui Un sacco di cose La N-Sig Ha hitato Perché sapeva che Cassidy saltava Probabilmente aveva Capito un po' L'habit generale Di Cassidy Che salterina E ha preso la N-Sig E ha preso la N-Sig Avrei potuto fare Di Litesair O N-Lite Comunque Va bene In realtà Sarebbe stato Meno rischio Su una N-Sig Su una Ridd Comunque Ok Cassidy Rescettare Un buon G-C-D-Sig Oh mio Dio Ho fatto tantissimo danno Ancora viene rittato Qui trova Ok Continua con la N-Sig Come ha fatto prima Ho fatto due volte Ho provato la stessa Ridd Ma non l'ho trovata In conclusione Trova di nuovo La N-Sig Usa un bel po' Di Sig Questo Core E viene punito Qua Vabbè Inutile dire Che ha fatto Una Sig Di Trop Forse Qua innanzitutto Voglio rivedere Un attimo Come ha perso Tutta quella vita Ok In cui ci siamo Sta dittato Un pochino Cassidy Ha cercato di impedire Che Core Prendesse l'arma Alla fine La Core Ce l'ha fatta Poi Ok Allora Qua ha fatto Ser Doppio Spoddodge Core Pensava che si interrompesse Quindi ha fatto subito L'Eslite Forse avrebbe dovuto Aspettare Però Era un 50-50 Questo qua Quindi non era Le cose in neutral Molto spesso Sono difficili Da predictare Soprattutto se Si è platini Il concetto di neutral È un po' È un po' Lasciato In disparto Insomma Comunque Cassidy Si gira Hitta il Side light Di nuovo Un altro Chase dodge Core Indietriggiato Per fare La Sidesig Non sarebbe mai Arrivata in tempo Questa Sidesig Non so perché Si è intregiato Non sarebbe mai Arrivata in tempo Comunque E viene Hittato da Una Disig Ok Qui Vabbè Ha provato Il ground pound È quasi inutile Provare il ground pound Sullo stage Perché Ci sono mosse Nettamente migliori Che coprono Molto più spazio Quindi Non è assolutamente Non vale assolutamente La pena Non è assolutamente Worth Infatti viene punito E poi Il colpo finale Che è quello Che abbiamo visto Prima Ecco che Non questo Ma Quello dopo Ok Lui Hitta la D La Enesig Questo qua Questo Era Questa era Una Read Troppo Rischiosa Questa qui Non l'avrebbe Non l'avrebbe mai Hittata Una cosa del genere Avrebbe dovuto Aspettare A giocarsela Con calma Anche perché Sapendo che Sarebbe morto In un colpo Di pistole Semplicissimo Direi che Andare di GC Disig È un po' Un rischio Incalcolato Capito Soprattutto Sullo stage In GC Cioè Voglio dire Avrebbe Poteva funzionare Ma una percentuale Davvero bassa Di funzionare Quindi È stato un po' Come giocare Alla lotteria Questo Infatti Evitato E il serra L'ha punito Resettare Il serra Di nuovo Ok Qua già Ha capito Che deve Giocarsela Con calma Infatti Riesce a riprendere L'arma Tenta La Disig Che non Trova In generale Fa troppe Sig Questo Comunque Parliamo Meglio Alla fine E Resettare Dash Der Ok Questa era una buona mossa Fatto Dash jump Der Pulitissimo Sapeva che La Cassidy Sarebbe rimasta Ancora a terra Perché sta Andando a far avanti Indietro Probabilmente E Ha concluso Kill option Pulitissima Questa Nuda da dire Adesso Incomincia a Starvare Uh Aveva già capito Dove sarebbe andato E fa La sua Anything Ok Questo era un altro Buon punish Uh Bella questa string Ok Dopo magari La guardiamo Ancora Trova Ok Cassidy cerca Di colpirlo Con qualche Qualche hit Di pistole Ma Mi sa Disperatamente Tutto Quella Sig era Forse un po' Di troppo In questo Caso Vabbè Ok Tutti e due Throw Sono entrambi Vita rossa A core Basta unita Cassidy Magari Due Ok Già il Throw Di core È stato Eh no È il Throw Che gli ha Che l'ha Fatto perdere Allora Aspetta Torniamo indietro Ok Qui ha punishato Disig Ci stava come punish Perché poi gli ha permesso Di fare il resto Perché si è Sporto in avanti Non so se L'ha fatto in reazione A Alla mossa di Cassidy Cioè come punish Se l'ha fatto È stato davvero Tanto reattivo Comunque Poi Dash Side light Che è sempre un ottimo Quasi sempre Un approccio buono Questo qua Lo rivedremo poi Nella guida Apposita Però Dash Side light In generale O chase Doge Con il martello Non è per niente male Perché copre tanto spazio Riesce a coprire A bloccare il dodge A Cassidy Che stava provando Di light Di light Recovery Per concludere E questo già è ottimo Poi riesce a hitare La Nsig Che ha già fatto Aveva già fatto Un sacco di volte Durante il corso della partita Penso che Sia parte del suo Playstyle Non credo che fosse Calcolato questo E poi riesce a hitare Ser A Cioè Coprendo Avendo priority Diciamo Sulle guns Che Che miss A Cassidy Di nuovo Quindi questo era un ottimo Modo per Per accorciare le distanze In quanto danno Essere in neutro All'avere entrambi Pochissima vita E trovare l'arma È una delle mosse Più Cioè Più sbagliate Perché è come se Ti scavassi la fossa In senso che Nel momento in cui Hai una stock rossa E Trovi l'arma Vuol dire che Ti neghi La possibilità Di avere lo stesso range Del tuo avversario Ti metti in una posizione Di svantaggio Automaticamente Quindi lui Trova Trovando in questo momento Lui ha rischiato Di mettersi in una posizione Di svantaggio E Cassidy Già gli aveva Schivato l'arma Una volta saltando Quindi l'avrebbe rifatto Lui poi Riesce a hitare Con Con il jump Nair Però il fatto Di aver trovato l'arma Poi lo porta a sconfitta Giustamente Perché Manca una sola arma È molto difficile Evitare Questi Nair Queste Mosse del martello Che hanno un sacco di range Soprattutto se è un armed Che non puoi Fare priority Lui tenta di Counterare con il ser Riesce finalmente A pigliare l'arma Che È un'altra arma Con poco range In realtà Avrebbe dovuto Tenere il martello Come dicevo prima E Viene automaticamente Spazzato via Allora Per quello che ho visto Se dovessi dare Dei consigli A questo core Gli direi Innanzitutto Di Essere un pochino Più paziente Perché In 1v1 Capisco che Tu voglia comunque Giocare la partita Ma bisogna anche Ragionare un attimo Sulle mosse che fai Perché Perché L'1v1 Così L'1v1 È di zoning È di Stage control E Non puoi Valzare sul nemico In ogni momento La seconda cosa È Di Throware Fare Anzi Di throware Meno spesso In generale E poi La terza cosa Stavo per dire È di fare Meno sig Perché Sono molto rischiose Ti conviene Prima giocare Sulle mosse veloci Che hai Della tua arma Invece di Usare mosse lente Per fare Poco danno O comunque Fare cose prevedibili Perché Quando sei rosso È ovvio che Quell'altro Proverà a fare una sig Per colpirti Quindi Evita di essere Beatato in questo modo E fai meno sig Il video finisce qua Se avete Altro da aggiungere Lo scrivete come al solito Sempre sotto nei commenti Se volete mandarmi Replay Potete farlo benissimo Attraverso il discord Che lascio sempre Come al solito In descrizione E Niente Basta